Riformata la sentenza per il sedicente fotografo ebolitano, arrestato a novembre del 2022 per violenza sessuale e sequestro di persona dopo aver adescato sui social a Battipaglia una dodicenne battipagliese da violenza sessuale con minore ad atto sessuale, consensuale con la riduzione della pena a 5 anni in primo grado. L'imputato era stato condannato in abbreviato a 7 anni. È stato lo stesso procuratore generale Cantarella al termine della requisitoria pronunciata a marzo scorso davanti ai giudici della Corte di Appello di Salerno con il presidente Rulli, all'Atere Berlicanani e Conforti a chiedere la riforma del verdetto. Di primo grado, non essendoci una prova certa della consumazione di un rapporto completo, né tantomeno che la ragazzina sia stata rapita, deduzioni derivanti da una serie di indagini difensive. La ragazza all'appuntamento con il fotografo a Battipaglia si sarebbe recata spontaneamente per la realizzazione di un book fotografico, così come denunciato all'epoca dei fatti, chiedendo per l'imputato difeso dall'avvocato Costantino Cardiello la condanna a 5 anni di reclusione, sia per l'atto sessuale con la minore che per il possesso di materiale pedopornografico. Richiesta che è stata accolta dai giudici di secondo grado. La vicenda, all'epoca dell'arresto dell'uomo, destò enorme scalpore nelle due città della Piana del Sele, sia a Deboli, dove l'arrestato abitava con la famiglia, che a Battipaglia, città di residenza della minore e di tutta la famiglia della giovane vittima.